Le domande che ha fatto la moderatrice sono domande che necessiterebbero di una risposta molto lunga, anche articolata. Ci sono anche colleghi qui in sala che potrebbero sicuramente rispondere in maniera più dettagliata di me. Intanto credo sia stato già rimarcato stamattina l'importanza e una consapevolezza che però ancora deve crescere circa l'importanza del suolo come risorsa naturale. Io credo che su questo noi dobbiamo fare ancora passi in avanti. Il mio istituto da 5-6 anni pubblica ogni anno un documento che è il rapporto sul consumo di suolo in Italia. È stata un'iniziativa da me promossa insieme ai colleghi che si occupano di questa materia in Ispra. Quando ero direttore generale, francamente mai avrei creduto che avesse una fortuna editoriale così importante, nel senso che una pubblicazione che è diventata in breve tempo un documento guida anche a livello europeo. Però se questo, come dico sempre, da direttore prima e da presidente poi, mi rendo ovviamente orgoglioso del lavoro che è stato fatto, sotto un altro punto di vista mi genera anche qualche elemento di preoccupazione e di perplessità. Perché vuol dire che ancora tanto il lavoro da fare per quanto riguarda sia la consapevolezza, sia le iniziative da intraprendere. Il ruolo della ricerca è un ruolo fondamentale in questa partita, ma io direi che è un ruolo fondamentale in uno scenario più ampio in cui occorre cambiare il paradigma culturale, sociale ed economico del Paese. Guardate che non scappiamo da questa cornice. Cioè se pensiamo di astrarre o di in qualche modo approfondire questi argomenti in maniera specifica o in maniera singola, se mi passate il concetto, noi come sistema Paese non ne usciamo. E quindi bene hanno fatto i colleghi del CREA a promuovere questa iniziativa, bene soprattutto hanno fatto nel mettersi a disposizione di un'iniziativa che consente di tradurre alcune altre iniziative o alcuni approfondimenti di carattere tecnico-scientifici, di tradurli in azione concreta. Io sono profondamente convinto per una serie di ragioni che sono anche se volete ragioni di tradizione, ragioni storiche, ragioni culturali che il settore agricolo in Italia è un settore che vada preservato e sviluppato. L'agricoltura è uno dei settori fondamentali del Paese che maggiormente lo identificano in qualche modo. È un fattore anche di identità, di coesione sociale. E quindi secondo me c'è bisogno, in uno scenario però più ampio che ho cercato di definire prima, di iniziative che possano rendere anche questo settore partecipe di questo cambiamento di paradigma come già lo è, ma lo deve essere ancora di più in una situazione, se volete, ancora più estesa, ancora più di rete. E quindi tutto quello che traduce in azioni concrete, programmi, attività e piani di ricerca, è chiaramente qualcosa che va incontro verso la declinazione di un concetto molto ampio di sviluppo sostenibile che, ripeto, non può essere più solo un paradigma ambientale a cui spesso negli ultimi anni è stato riferito, ma che è ancora di più, e direi in maniera ineludibile, un paradigma di carattere sociale ed economico. Cosa chiede il mondo della ricerca ai rappresentanti politici, ai decisori politici? Ma noi chiediamo, lo dico perché l'ho già detto anche pubblicamente, a tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento, oltre che ovviamente ai rappresentanti di governo, chiediamo qualcosa che può sembrare semplice, ma allo stesso tempo riteniamo che sia fondamentale ed ambizioso. Si tratta di avviare politiche, nel senso più ampio e più nobile del termine, intanto che possano evitare la trasformazione di aree agricole e naturali. Nel rapporto purtroppo raccontiamo di come invece questa tendenza sia ancora progressiva nel nostro paese, a fronte di obiettivi anche internazionali ed europei che pongono un termine molto preciso di consumo di suolo zero al 2050, noi invece continuiamo in qualche modo a consumarlo. Io, devo dire, poi preferisco complessivamente parlare di un uso sostenibile della risorsa suolo e quindi noi comunque dobbiamo raggiungere un consumo di suolo netto zero e su questo io mi permetto di chiedere ancora qui e da questa sede e in questa sede un impegno dei decisori politici affinché la legge quadro sul consumo di suolo che è stata prossima all'approvazione ormai nelle ultime due legislature trovi finalmente compimento e venga approvata. Ci sono tutte le condizioni necessarie per quanto riguarda il mio istituto ma credo in questo momento di poter parlare anche a nome degli altri enti pubblici di ricerca c'è la disponibilità ad accompagnare a 360 gradi dal punto di vista tecnico scientifico il percorso politico e parlamentare di approvazione di questo strumento che diventa fondamentale non perché ci sia in Italia, non perché sia una legge che si aggiunga alle altre ma perché in questo momento anche rispetto al panorama europeo internazionale noi non abbiamo una cosiddetta legge quadro che consenta di definire bene i paletti di questa situazione che ripeto in questo momento parliamo di agricoltura ma che ovviamente per quanto riguarda il consumo di suolo involge anche le competenze degli enti locali penso per esempio a tutte le necessarie attività di programmazione e di pianificazione urbanistica. Chiediamo che ci siano politiche atte a mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo e quindi come dicevo prima anche attraverso la revisione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi per assicurare che il nostro territorio sia permeabile anche in ambito urbano ora senza voler fare un'equazione matematica perfetta ma continuiamo a utilizzare in maniera poco responsabile il suolo e poi ci piangiamo gli effetti degli eventi naturali o ambientali le cui conseguenze in qualche modo sono passatemi il termine enfatizzate da un'impermeabilizzazione del suolo troppo diffusa politiche che ed è argomento di questi giorni assicurino la tutela dal dissesto idrogeologico e la prevenzione dal degrado e dalla desertificazione in un rapporto presentato una decina di giorni fa presso il senato della repubblica è stato presentato un sondaggio da cui si rileva che per il 63% degli italiani la cosiddetta circular economy la green economy è una delle tre sfide principali del paese da qui al 2050 apro e chiudo una parentesi il sondaggio dice anche che solo il 4% degli italiani sanno di cosa si parla quando si parla di circular economy questo è un tema su cui anche noi come enti di ricerca dovremmo interrogarci però dice anche che in questo 63% tra le tre principali politiche verso la green economy c'è proprio la lotta alla desertificazione che peraltro genera poi chiaramente parliamo al lato senso problemi ed effetti anche sui fenomeni migratori chiediamo che ci siano azioni atte a promuovere e monitorare le pratiche di gestione del suolo agricolo a basso impatto ambientale questa è una sfida che il paese deve saper percorrere io credo che su questo sia decisivo il ruolo del CREA e degli enti di ricerca e ancora promuovere la ricerca e la costruzione di una conoscenza condivisa e accessibile sul suolo anche questo è un tema che rientra in un paradigma più generale il famoso 4% di cui parlavo prima forse ancora questi elementi di conoscenza non sono diffusi non sono patrimonio veramente di tutti e poi direi da ultimo politiche che sappiano anche intravedere e migliorare in chiave preventiva le condizioni dei servizi ecosistemici dei suoli naturali, agricoli ed urbani in quello che ho detto non c'è niente di trascendentale si tratta, scusatemi, semplicemente ma non banalmente di mettere in fila e soprattutto di rendere coerenti alcune affermazioni di principio che sentiamo ripetere tutti i giorni con programmi e azioni concrete ma come vi rendete conto si tratta di una sfida se volete semplice ma al tempo stesso ambiziosa ecco declinare questi cinque punti per noi sarebbe già un punto di arrivo ma al tempo stesso anche un punto di partenza fondamentale grazie grazie, grazie mille grazie mille grazie mille